Non è stata ancora fissata la data dei furiarali dell'ex sindaco di Balestrate Paolo Valenti, morto lunedì mattina in ospedale al Policlinico di Palermo. La famiglia dell'ex primo cittadino avrebbe infatti chiesto l'autopsia e si attenderebbe la decisione in merito da parte della magistratura. Valenti, che era stato sindaco di Balestrate alla fine degli anni 90 e che aveva più volte ricoperto i carichi amministrativi, era stato ricoverato per un intervento chirurgico abbastanza semplice. Poi però, durante la degenza post-operatoria, sarebbero sorte delle complicazioni, forse una virulente infezione che i sanitari del nosocomio palermitano non sarebbero riusciti ad arginare. Da qui l'iniziativa della famiglia di fare chiarezza e vederci appunto chiaro su quanto accaduto. Paolo Valenti è quindi deceduto all'alba di lunedì scorso. I funerali saranno celebrati non appena verrà eventualmente effettuata l'autopsia e la salma riconsegnata ai familiari. Il 71enne, anche primo vice governatore del distretto Lions Sicilia, era cugino del padre dell'attuale sindaco di Balestrate Vito Rizzo, con il quale era stato assessore nella stessa giunta, quella guidata da Tonino Palazzolo. Sia lui che quasi tutti i balestratesi lo chiamavano comunque zio. Per me non è mai stato il cugino di mio padre, ma lo zio che in paese non avevo, aveva detto lunedì, dopo la notizia del decesso, il primo cittadino di Balestrate. Da bambino ero così orgoglioso che lui fosse il sindaco del mio paese e ogni volta che sentivo odore di pipa in giro, sapevo che c'era lui nei paraggi e lo cercavo solo per salutarlo. Coglianni ho avuto la fortuna di lavorare con lui per il nostro paese e fino all'ultimo non ha mai smesso di incoraggiarmi e spronarmi a fare sempre meglio. Errore sanitario no, ma la sanità o meno, sta di fatto che Balestrate ha perduto un personaggio importante della sua recente storia, impegnato anche nel sociale e nella cultura. Recentemente il Lions Club era stato protagonista a Chicago di un seminario riservato ai 750 primi vice governatori degli stretti di tutto il mondo e c'era anche Paolo Valenti. Ebbe la possibilità di visitare l'area museale dedicata ai cimeli del fondatore del Lions, Melvin Jones, e di conoscere la struttura organizzativa del club.